Serve subito un cambio di rotta per risolvere le criticità finanziarie e di gestione del Piolbergo Trivulzio. È l'appello che a Nao Assomed, il sindacato dei medici dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, lancia la politica a comune regione in primis, chiedendo di salvare la struttura. Il Piolbergo Trivulzio, viene spiegato in una nota, deve fare i conti con enormi difficoltà di bilancio, se l'alienazione di terreni e immobili è prassi ormai consolidata, si legge nel documento. Gli avvenimenti degli ultimi mesi sarebbero, secondo la Nao Lombarda, sintomo del malfunzionamento della gestione di una delle istituzioni più care ai milanesi. Negli ultimi anni, spiega il segretario regionale Stefano Magnone, abbiamo raccolto dai colleghi del PAT le gravi criticità su molte questioni, a cominciare da un pessimo clima di lavoro, a partire dall'insediamento dell'attuale dirigenza risalente al gennaio del 2019. Il numero dei procedimenti disciplinari è andato esponenzialmente aumentando, con risultati finali, spesso coincidenti con l'archiviazione. In altri casi, il procedimento si è concluso con la combinazione di sanzioni di estrema gravità che ci hanno lasciati sconcertati di fronte alla sproporzione delle infrazioni contestate, prosegue Magnone. In alcuni casi il Tribunale ha poi revocato tali sanzioni, calcoliamo che in questi anni siano stati avviati non meno di 25 procedimenti disciplinari a fronte di un numero di dipendenti in calo, inizialmente di poco superiore alle 60 unità, numeri senza precedenti, di cui abbiamo chiesto conto, come prevede il contratto nazionale a regione Lombardia. Oltre a questo, prosegue Magnone, i colleghi lamentano una gestione verticistica che ha svilito e umiliato le diverse professionalità del PAT. Di fatto, i colleghi vengono convocati dai vertici solo per impartire loro ordini spesso contradditori e improvvisati, relativi all'organizzazione del lavoro. Vi sono medici che negli ultimi anni sono stati spostati di reparto anche sei volte, generando di conseguenza enormi difficoltà nel ricostruire l'equip di lavoro e con ricadute sulla qualità dell'assistenza medica ai pazienti. Grazie a tutti.